Anzi, si trova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Bomboster! Ragazzi, che fu fantastico! Anzi, c'è tutta l'angia del calcio in questo gol, tutta l'emozione del pallone, tutta l'arte dei giocatori. Che gol pazzesco! Sono già scappati via, avversari in difficoltà. Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Mostrano un buon controllo del gioco. Passaggio profondo per Bomboster. Zapata, prova la conclusione! Non si fermano più, ancora a segno! Un 1-2 veramente da KO. Va di testa! E insaccano! Partina che sembra già chiusa e continuano a insistere per butta. La ripresa era ben schierata, è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Ha preso benissimo posizione del gioco. Ecco Reikant! Rijkaard la scuola in contolta disfatta di proporzioni epiche ma oggi la difesa è veramente un collaborato buon'avventura opportunità per buon'avventura costi buon'avventura prova le conclusioni segna lui e arriva così il gol del vantaggio e con il gol davvero il raffinatore e lui gli ha puniti prova la soluzione in fascia bella apertura da ciò che è mai incollata goi non sbaglia due gol di scarto però non vedi a pensare adesso grande colpo di testa rapido vicino ha colpito bene con perfetta coordinazione gran colpo di testa gran colpo di testa non c'è adesso tutta la palla per Ponte può tentare la conclusione provata palla gli avversari sono stati velocissimi Ricardino un contropiede portato in maniera perfetta grazie a tutti 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 quanta chance e il pallone finisce in rete e la Juventus pareggia una bella conclusione non c'è che dire ma non posso che immedesimarmi nel portiere secondo me non hai riuscito a vederla partire grazie a tutti grazie a tutti